Continuate pure, sono venuto a prendere il mio pesce Yamakoshi, sapete, con tutta quella lava che sta arrivando Sì, lo so, abbiamo combinato un guaio, fidati, se potessimo rimediare lo faremmo Ci vediamo al porto State facendo uno sbaglio Oh, ha ragione, noi siamo i re, non dobbiamo portarci le valigie Tieni, ma attenzione, questa è piena di lingotti d'oro Ragazzi, potete fare due cose per salvarci Sbrigati, vorremmo trovare una barca tutta per noi La prima, gettarvi nel vulcano offrendovi in sacrificio Gesto molto nobile, entrambi naturalmente La seconda? Ecco, il grande libro dice che c'è un altro rubino nel lato oscuro Un secondo rubino? Perché nessuno ce ne ha mai parlato? Forse perché nessuno vi ama quanto il caro cugino Lenny Trovate il rubino in l'isola Sarasalva Ria Colloquio Ti fidi di Larry? Non si chiama Lenny? Ne sei proprio certo? A me sembra più un Larry Sono Lenny e il vulcano Brontola Va bene, allora quale opzione scegliamo? Mi ripeti la prima? L'estinzione Oh, questa la scarterei Allora scopriamo il secondo rubino Bene Siamo pronti Non conta come ti giudica Michaela Io mi fido Comunque sugli occhiappalla lei ha ragione Sei fiero di me? Li ho mandati nella terra degli uomini tarantola Moriranno e l'isola avrà ottenuto il suo sacrificio Sempre che non trovino davvero il secondo rubino Ci siamo persi Come facciamo a uscire da qui? Due a sinistra poi a destra Due a sinistra Sì, grazie Larry In effetti sembri proprio un Larry Grazie a tutti Grazie a tutti.